Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. Apriamo parlando di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Sono 1.477 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.327 tamponi processati. Tasso di positività all'11,9% e Sicilia al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 21.996, i guariti invece 18.734. Stavolta non si registrano vittime e quindi il totale dei decessi in Sicilia resta di 12.180. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 223, 4 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono invece 16, 1 in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda infine i dati a livello provinciale, Palermo, Catania e Messina si confermano le tre province con il maggior numero di nuovi casi, rispettivamente 359 a Palermo, 313 a Catania e 260 a Messina. Cambiamo argomento a Misilmeri, nella Palermitano i carabinieri hanno sequestrato un impianto di produzione di calcestruzzi. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Misilmeri, con il determinante contributo dei colleghi del Centro Anticrimine Natura di Palermo, hanno effettuato un controllo finalizzato alla verifica sulla corretta applicazione della normativa ambientale presso un impianto di produzione di calcestruzzi sito nel comune di Misilmeri. A seguito degli accertamenti effettuati, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Merese il titolare dello stabilimento per apertura di scarico industriale senza autorizzazione e attività con emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione, tutti illeciti previsti e puniti dal Codice dell'Ambiente. L'area è stata sottoposta a sequestro preventivo al fine di evitare il protrarsi della situazione antigiuridica e impedire che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze. Il sequestro è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese. A Trapani invece i carabinieri hanno rinvenuto droga, banconote false ed esplosivi, sono tre le persone arrestate, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto in fase esecutiva dei militari del XII Regimento Carabinieri Sicilia e del nucleo cinofili carabinieri di Palermo-Villa Grazia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura nei confronti di tre soggetti ritenuti presunti responsabili a vario titolo dei reati di detenzione di esplosivi, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato emesso dall'autorità giudiziaria a seguito dell'intervento operato dai carabinieri lo scorso 19 agosto, quando personale della locale Compagnia aveva perquisito un magazzino nel rione San Giuliano, rinvenendo all'interno un ordigno esplosivo artigianale di circa 90 grammi e 90 batterie di fuochi d'artificio collegate in serie dal peso complessivo di circa 50 kg di miscela pirica con innesco a miccia a lenta combustione. Sul posto erano dovuti intervenire anche gli artificieri per la pericolosità del materiale rinvenuto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante la perquisizione i militari operanti erano stati ostacolati dagli indagati, i quali, con l'ausilio di persone a loro compiecenti, avevano aggredito gli operanti e proferito nei loro confronti gravi frasi minacciose. In quella circostanza era stato necessario l'invio in ausilio di diverse pattuglie presenti in circuito, riuscendo così a ristabilire l'ordine. I carabinieri avevano poi identificato tutti quelli che si sarebbero posti all'attività e avevano denunciato quattro persone per resistenza, violenza e minaccia pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Durante l'esecuzione della misura cautelare nei confronti degli arrestati, i militari hanno rinvenuto nell'immobile e nei locali a loro disponibili tre banconote contraffatte dal valore complessivo di 250 euro, 280 grammi di hashish suddivise in tre panetti, 6 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A Paternò, nel Catanese, un 56enne è stato sorpreso a bruciare rifiuti in strada, ovviamente scattata la denuncia. I carabinieri della sezione radiomobile di Paternò hanno deferito in stato di libertà per combustione illecita di rifiuti un 56enne del posto. Al riguardo, i militari, durante un servizio di prevenzione a largo raggio, volto a contrastare in particolare i reati ambientali, nel transitare lungo una strada in località Tre Fontane del comune di Paternò, hanno notato nell'opposto senso di marcia un'autovettura che stava trasportando un ingente carico di materiali, seguita a brevissima distanza da uno scooter. Insospettiti, i militari si sono posti sulle loro tracce, sorprendendo i conducenti dei due mezzi, dopo alcune centinaia di metri, mentre stavano scaricando numerose bottiglie e scatole di plastica sul ciglio della strada. Gettati i rifiuti, l'automobile si era immediatamente allontanata, mentre il soggetto sul ciclomotore era rimasto sul posto, dando fuoco al materiale di risulta con il proprio accendino. Prontamente bloccato dai carabinieri, che mediante gli estintori in dotazione sono riusciti a estinguere l'incendio, è emerso come il 56enne stesse tentando di smaltire in maniera illecita la spazzatura proveniente dalla sua macelleria. Ancora cronaca con una notizia dall'Agrigentino. Alcuni malviventi si sono intrufolati all'interno del liceo scientifico Sciascia a Canicattì, rubando sei computer portatili e una cassa acustica. I malviventi, durante la notte, hanno forzato una porta secondaria d'ingresso e una grata in ferro, riuscendo così ad accedere nel plesso di via Pasolini. Il dirigente scolastico, una volta scoperto il furto, ha presentato una denuncia ai carabinieri della compagnia di Canicattì, con i militari dell'arma che hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Restiamo in tema e ci spostiamo a Catania, dove un uomo è stato arrestato per furto aggravato. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per il reato di furto aggravato. Nello specifico, personale dipendente dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha intercettato, in via Duca degli Abruzzi, due soggetti intenti ad armeggiare nel baule di un motociclo. Alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga e dopo un breve inseguimento, gli operatori sono riusciti a bloccarne uno. L'uomo è stato quindi sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso che sono stati opportunamente sequestrati. Dagli accertamenti effettuati nell'immediatezza, gli agenti hanno accertato che la moto sulla quale i due malviventi sono stati visti armeggiare era stata rubata pochi minuti prima dalla via Oliveto Scamacca. Pertanto, una volta contattato il proprietario, gli operanti hanno proceduto alla restituzione del mezzo. Il malvivente fermato è stato accompagnato in questura per ulteriori accertamenti e tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Il PM ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari in attesa della direttissima. A Palermo la polizia ha tratto in arresto un trentenne e un cinquantaquattrenne, entrambi accusati di aver commesso una rapina ai danni di un furgone porta sigarette nella zona di via Oreto. I due avrebbero bloccato il conducente del mezzo e rubato tabacchi per un valore di 10.000 euro. L'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle intercettazioni telefoniche e alle testimonianze raccolte, hanno permesso agli agenti di individuare e arrestare i due malviventi. Ci spostiamo adesso nel Nisseno dove i carabinieri di San Cataldo, siamo quindi in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 52enne per lesioni e rapina gravata. L'uomo infatti è accusato di aver picchiato e rapinato un amico insieme a un complice dopo avergli offerto da bere al bar. La vittima nel tentativo di pagare aveva aperto il portafogli che conteneva quasi 1.000 euro. Usciti dal bar di San Cataldo, la comitiva si è spostata verso Canicattì, ma durante il tragitto i due avrebbero fermato l'auto e derubato l'amico del portafogli, dopo averlo colpito violentemente con una mazza da baseball. A quel punto l'hanno scaricato in strada a San Cataldo. I carabinieri, dopo aver arrestato il 52enne, per il quale sono scattati i domiciliari con l'obbligo di tenere il braccialetto elettronico, stanno adesso cercando il complice. Restiamo nel Nisseno, ma ci spostiamo virtualmente a Gela, dove un trentenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un disoccupato gelese di trent'anni, gravato da pregiudizi di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di 194 grammi e un bilancino di precisione. L'arrestato, al momento della perquisizione, si trovava sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per falsa testimonianza. Su disposizione della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Gela, il predetto è stato posto agli arresti domiciliari. Un pusher è stato arrestato anche a Catania, si tratta di una 61enne che nascondeva la droga in una mensola del soggiorno, ma è stato beccato dai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, volto al contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgo, nell'ambito del quale hanno arrestato un catanese di 61 anni. Nella circostanza, i militari hanno notato che il 61enne stazionava all'interno del portone d'ingresso di un palazzo e a un certo punto è stato raggiunto da un soggetto col quale ha comunicato per pochi secondi per poi accedere al palazzo mentre il suo interlocutore lo ha atteso per strada. Gli operanti, insospettiti dal movimento anomalo, al suo ritorno lo hanno perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di marijuana che teneva nella mano destra, pronta per essere ceduta al soggetto che lo attendeva. I carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione del pregiudicato, sita nel palazzo dal quale era uscito, e su una mensola del soggiorno hanno trovato un blocnotes sul quale erano appuntati dei nomi nativi e delle cifre. All'interno della mensola i militari hanno trovato un vano nel quale erano nascosti 10 involucri contenenti 2 grammi di cocaina e 11 involucri contenenti 30 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione digitale. Il 61enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la traduzione presso il carcere di Catania a Piazza Lanza. I carabinieri della stazione di Augusta nel Siracusano hanno tratto in arresto un pregiudicato megarese di 29 anni per evasione. L'uomo, agli arresti domiciliari nella propria abitazione per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, al momento del controllo da parte dei carabinieri non è stato trovato in casa come previsto dalla misura cautelare alla quale era sottoposto. Immediatamente ricercato, i militari lo hanno rintracciato mentre a piedi passeggiava per le vie della città senza alcun giustificato motivo. Bloccato è stato poi arrestato per evasione e, dopo le formalità di rito, tradotto presso il carcere di Cavadonna come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Ed ora ad Akate, nel Ragusano, dove un giovane tunisino è stato arrestato per un omicidio commesso nel suo paese. Continuano senza sosta i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria, dai centri cittadini fino alle più periferiche zone rurali, anche con il supporto di militari addestrati dello squadrone carabinieri cacciatori di Sicilia. In particolare, nel territorio comunale di Akate, i militari della stazione di Vittoria, con il supporto dei colleghi cacciatori e di personale della locale stazione, a seguito di una pianificata attività di perlustrazione incontrata a Macconi, hanno individuato e fermato un giovane tunisino che risultava destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d'Appello di Catania su richiesta dell'autorità giudiziaria tunisina, poiché l'uomo si sarebbe reso responsabile di un omicidio avvenuto nel 2012 nel proprio paese d'origine. Il tunisino, inizialmente resosi irreperibile così da sottrarsi all'esecuzione del provvedimento a suo carico, è stato quindi identificato e tratto in arresto dai militari dell'arma. L'uomo è stato ristretto presso la casa circondariale di Ragusa in attesa di essere consegnato alle autorità della Repubblica della Tunisia ed essere giudicato dell'omicidio di cui è risultato responsabile. A Palermo la Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false, sono state sequestrate quattro società e arrestati tre imprenditori. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di tre uomini accusati di associazione a delinquere ed emissione di fatture false. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro preventivo di quattro società e 160 mila euro. Oltre ai tre finiti ai domiciliari, nell'inchiesta sono coinvolte altre nove persone. Tra loro tre dipendenti pubblici che avrebbero svolto in nero lavori edili e di giardinaggio, usufruendo dello schermo societario messo a disposizione dall'organizzazione, e tre percettori di reddito di cittadinanza che avrebbero richiesto l'emissione delle fatture false per coprire la propria attività lavorativa e non perdere il beneficio assistenziale. I tre, ovviamente, saranno segnalati all'Inps. Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Entrate, avrebbero permesso di quantificare in oltre 2 milioni di euro l'ammontare delle fatture inesistenti che sarebbero state emesse dalle società nella disponibilità degli indagati nel periodo 2019-2021. Come ricostruito dalle indagini dei finanzieri, il profitto che spettava gli indagati era il 10% dell'importo delle fatture. Tra i destinatari della misura cautelare, a un soggetto viene contestato anche il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto, nascondendo i redditi di cui sarebbe stato titolare, avrebbe ottenuto indebitamente la percezione dell'assegno sociale corrisposto dall'Inps, mentre un altro risulta percettore del reddito di cittadinanza beneficio che, per effetto del provvedimento, verrà immediatamente sospeso. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24. Grazie. Grazie. Grazie.